Baumgartner è il titolo dell'ultimo romanzo di Paul Oster, scrittore statunitense. Baumgartner è il protagonista del romanzo, si chiama Seymour Baumgartner, ma nel romanzo si chiamerà sempre soltanto Baumgartner, professore di letteratura all'Università di Princeton, ha passato i 70 anni e da dieci anni vedovo di Anne, una amatissima moglie scomparsa, morta fra i flutti del mare per un incidente e noi sorprendiamo il professore dopo dieci anni, lui rimpiange la moglie morta, la amava molto, si amavano, sente la fissura della sua assenza, al tempo stesso la vuole ricordare perché sa che finché la ricorda in qualche modo Anne vive, ritrovano sua vivezza anche se è scomparsa e c'è una frase significativa nel romanzo che vi leggo, il vivo può mantenere il morto in una specie di limbo provvisorio tra la vita e la non vita, ma quando muore anche il vivo allora è la fine e la coscienza del morto si spegne per sempre. Allora lui vive anche per ricordare Anne, ma vive anche perché vuole vivere, vuole continuare a scrivere i suoi libri, cerca anche di innamorarsi, un po' ci riesce di un'altra donna, ma è quasi come per ricordare l'amore di Anne, insomma, e con Anne. Il finale è bizzarro, aperto, strano, misterioso, lo scoprirete voi, ma proprio sul finale lui va quasi a ricercare in un giro in automobile, quando poi sta per fare anche un altro incontro con una donna giovane che si sta occupando degli iscritti della sua moglie scomparsa, una studiosa, e si ricorda di un lampo di felicità nella sua vita, proprio quando stava con Anne, e avevano fatto semplicemente in un bosco un picnic, si erano fermati da qualche parte per pranzo e mentre stendevano la coperta sul terreno, sabbiosa, e lui si voltava verso il suo bellissimo e radioso viso di lei e di Anne, era stato travolto da un'ondata di felicità così potente che gli erano venute le lacrime agli occhi e si era detto, ricorda questo momento, piccolo uomo, ricordalo finché campi perché non ti accadrà mai nulla di più importante di quello che ti sta accadendo in questo momento. E aggiunge, ricorda di aver ricordato quella sensazione di essersela portata dentro per anni e adesso che manca poco, alla fine della sua vita, ancora torna a questo ricordo. Il libro ha questa struggente narrazione di un'assenza ed una voglia anche di vivere e di non dimenticare questa assenza. Un'osservazione che potrei fare è che Oster è di Newark, così come Philip Roth, e di Philip Roth ricordiamo altri, i vecchi, anziani, le prese con il tempo ultimo della vita, la malattia, le assenze, il passato, i bilanci di vita, ma più aspri, più spregiuricati. Qui c'è maggior delicatezza e poi forse a metà del romanzo, quando lui scopre che sua moglie Ann non aveva scritto soltanto delle poesie poche pubblicate, ma aveva scritto anche altro, aveva tenuto un po' tutto nascosto e quindi c'è anche questa rivalutazione quasi dei segreti letterari della moglie. Però qui che conta, al di là di questa osservazione un po' critica che mi permetto di fare, che conta è la limpidezza e la intensità della scrittura di Paul Oster, che resta un grande narratore americano contemporaneo, è stato detto da qualche critico che questo potrebbe essere il suo testamento, ma secondo me è di cattivo gusto dire questo, perché Paul Oster oggi lotta contro una forma abbastanza grave di tumore, appena perso un figlio drammaticamente, a 77 anni, certo dire che questo libro e il suo testamento suona di cattivo gusto, io spero che lui ne faccia altri di romanzi, ma certo l'ombra della morte come assenza e l'ombra del tempo che si fa breve nella vita di un uomo, è un'ombra che in questo romanzo si sente molto e bene.